Un calo record per un fenomeno che però non scompare. Le morti sul lavoro accertate nel 2019 sono state 628 in riduzione del 17,2% rispetto all'anno precedente. L'INAIL che monitora gli incidenti non aveva mai registrato prima d'ora un ribasso così forte ma per il presidente dell'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni Franco Bettoni bisogna fare comunque di più. Serve un cambio di passo, dice presentando a Montecitorio la relazione annuale e non è soddisfatta nemmeno la ministra del lavoro Nunzia Catalfo secondo cui i morti sono sempre troppi e che annuncia di avere riconvocato per lunedì prossimo il tavolo per la sicurezza sul lavoro al quale parteciperanno sindacati e imprese. L'INAIL spinge per allargare a tutti i lavoratori le sue tutele e oggi ne restano fuori infatti 3 milioni e mezzo e l'emergenza covid porta la questione in primo piano con il rischio che arriva da eventuali focolai in fabbriche e uffici con gli occhi puntati soprattutto ai rientri in servizio in autunno. Tornando al 2019 la contrazione risente sicuramente del confronto con il 2018 un anno che aveva visto una recrudescenza delle morti bianche più in generale da inizio millennio in ogni caso si è assistito ad un dimezzamento dei decessi sul lavoro.